Scusi un attimo, me lo può firmare? Per piacere me lo può firmare? Me lo rende unico, maestro. Me lo rende unico, maestro. Mario Ruopolo. Grazie. E la posta? No, niente posta. Ma dai, Mario, ma puoi essere contento, no? Ma che contento? Gli ho detto chiaro, Mario Ruopolo e io. Cordialmente Paolo Nerù. Che vuol dire? Cioè, voi dite che non la può cancellare e rispicarla meglio, che si vede che è per me che siamo amici. No. Ma dai. Ma ti sembra logico che lui si mette a cancellare la dedica perché non ti piace e te ne fa un'altra? Beh, perché? Perché? No, ma non è che lui ha scritto così magari perché tu sei andato lì a disturbarlo mentre lui pensava. No, gli ho chiesto. Lui stava guardando la montagna. Ecco, appunto. No, lo so che la montagna... Però stava con le cipolle in mano. Ah, ecco. Perché secondo te un poeta siccome ha le cipolle in mano non può pensare, eh? Beh, ma allora, allora quando ci ha chiesto questa cosa, nemmeno uno stacca la cipolla, se ci bucciano la cipolla, nemmeno lui. Ma Mario, ma lui è un uomo che ha da fare, non può stare dietro a tutto quello che vuole la gente, scusa. Beh, però lui è comunista. E questo che cosa vuol dire? Non l'avete detto voi che i comunisti vogliono bene alla gente? Che ci vuole? Senti Mario, non farmi venire nervoso, eh? Allora, questo qui è un libro che ho comperato io del poeta. Eh? Ora quando, e se ne avrai occasione, con molta delicatezza, mi chiedi se per piacere mi metto una firma. Una firma? Eh? Beh, allora prendete queste, eh? E' proprio una ruta, è uguale. Ma no, scusa, questo qui è tuo, l'ha fatto per te... Ma non è da volentieri, non... No, no. ... Grazie a tutti.